Ancora non è ben chiara la dinamica dell'incidente. Ciò che è certo è che i camion lo ha trovolto in pieno facendolo finire in codice rosso al Fazzi di Lecce. Vittima di questa disavventura, un operaio di Galliano del Capo di 58 anni impegnato a leverano per dei lavori per il posizionamento della fibra. È successo tutto verso le 10 e 30 del mattino. L'operaio si era spostato un attimo dal cantiere e aveva parcheggiato il camion in villa, forse per andare a prendere un caffè o qualcosa di fresco. Ma appena sceso dal mezzo qualcosa è andato storto. Il camion ha iniziato a muoversi, probabilmente a causa della marcia inserita, e l'ho travolto in pieno, restando incastrato tra altre due vetture parcheggiate vicino. Il forte impatto e poi le urla hanno attirato l'attenzione dei passanti, in particolare del proprietario di una delle due vetture rimaste coinvolte nel sinistro. Sono sceso dalla macchina, ho parcheggiato per andare in posta, mentre camminavo direzionato verso la posta ho sentito un botto urlare. Mi sono girato, sono andato verso la macchina mia, ho visto urlare, ho visto questo signore che era incastrato tra la mia macchina e quella di un signore sotto al camion. Si era incastrata la gamba e tutto quanto. Poi sono saltato sul camion per vedere di metterlo a folle, il camion era spento comunque, per metterlo a folle, per poter un attimino darlo indietro, per svincolare il signore. Poi a un certo punto è saltato sopra invece, mi ha fatto spostare uno degli altri dipendenti dell'azienda, ha detto togli un attimo, è salito il signore sopra e ha spostato il camion in retromarcia, tutto qua. Anche gli altri operatori non si spiegano cosa sia successo. Il 58enne è rimasto cosciente, ma le ferite, soprattutto alla gamba, erano troppo evidenti. Soccorso da un'ambulanza e un'atomedica del 118 è stato immediatamente trasportato in codice rosso in ospedale e attualmente la prognosi è riservata. Sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia Municipale e lo Spesal.